A tutti benvenuti, nuova edizione del nostro telegiornale e il giorno della verità per l'avvertenza sulle servitù militari di Capofrasca. A Roma l'incontro tra Stato e Regione e intanto i pescatori delle marinerie oristanesi hanno ripreso la loro protesta. Hanno ripreso la loro pacifica protesta in attesa che da Roma arrivi la sospirata notizia. È la giornata più lunga per i pescatori delle marinerie oristanesi. Ad un anno di distanza dall'incontro di Cabras l'avvertenza a Capofrasca arriva a Palazzo Chigi. Attorno al tavolo convocato per le 13, il ministro della difesa Roberta Pinotti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti e il presidente della regione Francesco Piglieru. Nella capitale però sono atterrati anche i sindaci di Cabras, Terra Alba, Arbus, Arborea insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria. C'è un diffuso ottimismo, dice il presidente di Lega Copo Ristano Gabriele Chessa, raggiunto telefonicamente. Siamo convinti che il governo centrale accoglierà, se non tutti, almeno una parte importante delle richieste avanzate. Ad una svolta, insomma, la lunga e snervante battaglia per il riconoscimento dei diritti dei pescatori che subiscono limitazioni alla loro attività lavorativa a causa delle esercitazioni militari. Una battaglia costosa, considerato che da settimane l'attività di pesca è bloccata, esattamente come i guadagni. Ne sarà valsa la pena se da Roma si rientrerà con in tasca il protocollo d'intesa siglato da Stato e Regione. E oggi torniamo a occuparci della questione luminaria. I commercianti oristanesi continuano a essere divisi. Da una parte c'è chi vorrebbe un attale scintillante, dall'altra invece la maggioranza propone delle opzioni alternative. Sentiamo. Da ieri la notizia ufficiale all'indomani della nota con cui Confcommercio ha fatto sapere che Oristano sarà una tale senza luminarie, i commercianti fanno sentire la loro voce. In realtà solo pochi, pochissimi, lo hanno fatto davanti alle telecamere. La maggioranza ha preferito non profurir parola. A microfoni spendi però alcuni hanno votato il sacco esprimendo le loro motivazioni. Molti non si sentono abbastanza tutelati dall'associazione di categoria. Altri investiti dalla crisi economica pensano che la quota di 150 euro sia esagerata e c'è anche chi punta il dito contro la scarsa. Ognone tra esercenti, conti alla mano solo in 45 hanno addirittura iniziativa, mettendo mano al portafoglio. Chi ha messo la quota, come noi e come tanti altri qui in Viattirso, come in tutto il centro, si può lamentare del fatto che per merito di tutti quelli che non partecipano, per vari motivi che non stiamo qui a sindacare, però il risultato è che anche tutti gli altri non avranno luminarie. Quindi dispiaciuta e un po' arrabbiata. Seccata perché come al solito chi fa deve pagare il prezzo anche di chi non ha voglia di fare o chi non vuole partecipare o chi pensa che probabilmente pensano che gli altri non facciano abbastanza, che il commercio ci lucri o non si sa quale sia il motivo. E tra i commercianti non manca chi ha proposte alternative diverse hanno suggerito di poter gratizzare la somma di 150 euro. Pagando una piccola somma mensilmente si potrebbe evitare di sborsarla per l'intero a ottobre. E poi c'è anche chi lancia un'altra opzione. Io avrei la proposta di comprarcele queste benedette luminarie. Ogni anno la stessa solfa. Nessuno è d'accordo. Io per prima e quindi io non mi tiro indietro. Ma io sono per comprarcele una volta per tutte. Ce le compriamo, pagheremo. Chi ce le metterà? Per me è questa. Il dado comunque tratto e Oristano sembra destinata a dover fare a meno delle sue luminarie. Questo sarebbe un dramma per tutti, soprattutto penso ai bambini perché l'atmosfera, la magia del Natale è qualcosa di importante. Sarebbe un peccato. Il Plus ha bandito la gara d'appalto per la gestione del centro per la famiglia, l'affido e le adozioni del distretto di Oristano. Il servizio sarà ospitato nell'ex asilo di Via Ribecio. È un progetto del Plus del distretto di Oristano. Oristano quindi è il capofila e il comitato direttivo, ci tengo a sottolinearlo, ha approvato il progetto per il centro per la famiglia e affidi. Abbiamo già pubblicato il bando, scadenza 14 novembre. Per la gestione dovrà essere affidata una società, una cooperativa che avrà i requisiti. Questo centro nascerà i primissimi di gennaio, questo è il cronoprogramma. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie che si trovano in momentanea difficoltà con un supporto psicologico di educatori, di pedagogisti e quindi dare un contributo a queste famiglie in difficoltà, famiglie che magari si stanno separando oppure che hanno adottato dei minori. Soprattutto si vuole rilanciare l'istituto dell'affido che nei nostri comuni sta diminuendo. Questo per evitare che i bambini di famiglie in difficoltà vengano portati in istituto, in centri per minori che invece possano rimanere nell'ambito familiare. Le risorse? Le risorse sono per il primo anno 230 mila euro. Abbiamo già individuata anche la sede. Dovrebbe essere sempre, secondo l'indirizzo del comitato direttivo del PLUS, il piano superiore dell'asilo di Viali Becio che è stato recentemente ristrutturato. Ci sono degli spazi che quindi verranno destinati a questo nuovo centro. E l'ordine dei medici di Oristano scongiura l'ipotesi chiusura del reparto di neuro-riabilitazione dell'ospedale San Martino. Il presidente Antonio Sulis chiede un incontro col commissario. Il problema nasce da una nota che ci hanno fatto dei colleghi, prevalentemente i sindacati, in quanto ritengono che l'ordine di servizio che mi è stato comunicato, che ho anche letto, comunica che i medici della medicina dovrebbero effettuare i turni di guardia notturna presso il reparto di neuro-riabilitazione. Riteniamo e ritengo anche che questo sia un qualcosa che va rivisto nel suo insieme, anche perché si trattano di due attività completamente diverse nella loro specificità. Di conseguenza è quasi impossibile che i medici della medicina che già sono berati di lavoro, specialmente non soltanto nelle ore notturne ma anche nelle ore diurne, possono effettuare i turni di guardia presso la neuro-riabilitazione. A proposito di neuro-riabilitazione, sulle notizie apparse in questi giorni di una paventata chiusura, voi cosa sapete? Mi auguro proprio di no, ritengo che sia un qualcosa di allarmistico che non ha nessun fondamento, dopotutto è un servizio, anzi è un reparto che prima il servizio lo effettuava all'Istituto Maria Bambina e che speriamo che ci siano i finanziamenti non soltanto dal punto di vista strutturale che questi già ci sono stati ma anche dal punto di vista organizzativo. È un reparto molto impegnativo che necessita di personale adeguato, non soltanto medico, lì parlo di fisiatri, di neurologi, di romatologi che sono quelle branche affine al servizio, al reparto di neuro-riabilitazione ma anche parasanitario come fisioterapisti, come infermieri e come os. Mi auguro proprio di no, sarebbe qualcosa di devastante ma penso che la Regione trovi i finanziamenti necessari e utili per poter lanciare praticamente questo servizio. I privati dimostrino di essere in grado di rilanciare lo scalo di Fenoso, l'appello è del capogruppo dei riformatori sardi in Consiglio regionale Attilio Dedoni. L'interesse della politica per il futuro dell'aeroporto oristanese non è mai venuto meno, spiega. Adesso però c'è un processo di privatizzazione che è andato a buon fine e quindi tocca ai privati dimostrare di essere in grado di rilanciare l'attività dello scalo. Dai privati in questa fase ci si aspetta soprattutto che accelerino i tempi di redazione del piano industriale e che iniziano a confrontarsi con la realtà produttiva dell'oristanese, con gli enti locali e con tutti i rappresentanti del territorio per individuare le sinergie che possono mettere di massimizzare le ricadute che il traffico aereo potrà avere sull'economia locale. Se i privati riuscissero a mettere da parte le polemiche e a fare chiarezza su quali sono gli interlocutori, conclude l'esponente degli riformatori, anche l'impegno della politica potrebbe essere più semplice ed efficace. E si intitola Lago Modeo 2.0 il convegno regionale in programma a Sorradile sabato 29 ottobre. Abbiamo chiesto al sindaco obiettivi e programmi. L'iniziativa che porta avanti i comuni di Sorradile, i bidoni di Tadazzuni perché in questi anni abbiamo portato avanti politiche di sviluppo e infrastrutturazione del territorio attorno al lago e quindi proseguiamo in questa direzione. L'idea progettuale è aperta a tutti i comuni che sono attorno al lago. Riteriamo che il Lago Modeo è un bene ambientale di interesse regionale e nazionale e quindi la regione deve assolutamente valorizzare questa parte centrale della Sardegna, soprattutto in un periodo così critico sul clima, sugli riempimenti climatici. Riteriamo che attorno all'acqua, all'ambiente, alla cultura, al turismo, allo sport, all'ospitalità queste zone interne della Sardegna possono giocare sicuramente un futuro e dare possibilità di occupazione alle nuove generazioni. Il programma qual è? Il programma la mattina si articola in una tavola rotonda che inizia alle 10 e mezza con degli esperti legati a questi mondi, sono 30 persone accreditate e poi la sera ci sarà il convegno alle 15 e 30 dove presenteremo questo protocollo di intesi, di intenti del lavoro della mattina. Sarà presente il Presidente della Giunta regionale Francesco Pigliaru e l'assessore regionale del turismo Morandi. Dopo i volumi e i photobooks dedicati a Cabras arriverà anche il libro di foto che vedrà protagonista Solanas. L'amministrazione comunale vorrà rendere omaggio con un documento che contenga gli scatti storici della piccola frazione, ma per farlo occorrerà l'aiuto di tutti a cominciare dai residenti. Chi volesse partecipare all'iniziativa potrà consegnare le foto entro lunedì 38 ottobre. L'ufficio Staff al secondo piano del municipio di Cabras sarà aperto dalle 8 alle 14 da lunedì al venerdì. L'auspicio è quello di raccogliere immagini di luoghi caratteristici, significativi, originali, suggestivi, capaci di valorizzare l'identità della frazione. E terzo appuntamento inserito nella settima stagione della rassegna 3 euro di teatro al giorno, organizzata dal teatro Instabile al teatro Grazia Dele e dalla compagnia Pinocchio Dance proporrà giovedì 27 e venerdì 28 ottobre 2016 alle 17.30 lo spettacolo dal titolo Il sogno di Cioffoli, revisione di un clown muto dove il mimo e clown Cioffo alias Matteo Rossi sarà alle prese con il suo desiderio di lavorare nel cinema. Bene, con questo è davvero tutto, vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.